Quando sono sul ring, sento come se Dio avesse scelto di fare queste cose qua. È strano come io posso sentirmi a mio agio tra 12 corde e non mi sento a mio agio fuori da queste 12 corde. Sento come se io fossi nato per fare questo, come se Dio mi avesse portato su questa strada qua e potessi fare solo questo. Sono Gabriele Amodeo, ho 19 anni e faccio il tuo gire di lettanti. Sono avvicinato al mondo della box per caso, tramite una strada anche in questa palestra, conoscere cosa è la box, cosa sono i valori, cos'è l'essere. La prima persona che vidi in questa palestra fu il presidente della società, Nicolò, e vedendomi con un certo sovrappello e con una certa voglia, mi iscrivessi subito al corso di box. Da lì entra in questo palestra per dimagrire, dove incontrai il mio caro maestro Antinucci che grazie a lui mi fece diventare un gire di 64 kg. Sono passato da avere dipendenze di vario genere, atteggiamenti di vario genere, depressione, a finire che l'unica mia dipendenza e l'unica vera droga era stare su questo video. Con tutti i compagni di allenamento è come essere una grande famiglia, dai pugili agonisti che fanno sparring con me, ai grandi anziani della palestra che mi trattano come se fossero loro figli e per me è sempre un piacere venire qua a una seconda casa. Ora ho 8 match all'attivo da Elite seconda serie, mi mancano esattamente due match per passare a Elite nuova serie a combattere senza caschette. L'obiettivo è sfidare tutti i migliori pugili italiani, in futuro anche pure dall'Italia. Sono arrivato in questa palestra che era ancora un bambino, pesava 90 kg. E ora, tuttora, sto trovando a uscire come un uomo, come un campione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.